Mister Raffaele Novelli dopo la sconfitta di misura arrivata contro la Fermana, adesso arriva questa gara a Casalinga contro il Chieti, in settimana su cosa si è lavorato principalmente? Si è lavorato su una convinzione che dobbiamo avere che nelle situazioni che abbiamo dobbiamo finalizzare e sappiamo benissimo che una mezza occasione di fare due gol si può vincere le partite, ripeto questa partita qua non si è evidenziata ma abbiamo avuto quattro situazioni, quattro palle gol, la prima con in pro del primo tempo, due palle con Fioretti e una palle con Perrella, l'avversario su una sola situazione di gioco e un errore nostro difensivo su due situazioni ha fatto una, la differenza è questa, però la squadra ha espresso calcio, la squadra ha giocato, con intensità, anche nella seconda parte hanno iniziato 11 contro 11, in 10 uomini, 9 uomini, la squadra si è espressa e sicuramente non aver vinto la partita, qualche difficoltà l'abbiamo avuta e bisogna lavorarci, è una squadra che ha bisogno di tempo di maturazione, bisogna avere pazienza, posso capire l'amarezza dei tifosi perché vogliono rientrare a casa con la vittoria e noi dobbiamo cercare di continuare a lavorare, sapendo che domenica affronteremo una squadra che le ultime tre partite ha dimostrato miglioramenti, pareggiando, poi perdendo volte di misura, è una squadra che si chiude molto bene in difesa, riparte velocemente, dobbiamo avere grande pazienza, anche se non riusciamo a sbloccare partita nei primi minuti, bisogna avere pazienza dentro, prima o poi di trovare spazi per poi far gol, ecco, queste sono delle letture, sono importanti e dobbiamo lavorare sotto questo aspetto qua. Come ha detto bene lei, arriva un Chiedi fanalino di coda che però gioca tutte le partite fino all'ultimo minuto, quindi è una partita che probabilmente nasconde più insidie di altre partite che invece hanno già di per sé una loro attenzione di base. Il Chiedi è molto diverso dalle prime 6-7 partite, ha subito di meno, ha pareggiato e ripeto è una squadra che è ossia, è una squadra che è tenace, è una squadra aggressiva e sa noi adesso trovare gli spazi, sa noi di interpretare la partita con un'attenzione giusta, con un'intensità giusta, liberi di testa e dimostrare a noi stessi che possiamo crescere, dimostrare a noi stessi di poter fare partite. Le partite si fanno con la testa, col cervello, col cuore e con le gambe e se abbiamo questa presenza dentro possiamo raccogliere. Le assenze per squalifica di Meduri e De Matteis possono in qualche modo condizionare delle scelte lì a centrocampo ma comunque il resto della squadra è a disposizione? Molte volte sto sentendo le assenze, se io penso alle assenze De Matteis, Meduri, Grazioso, Sudan, Biran e compagnia, è mancanza anche rispetto per gli altri, non abbiamo una rosa, a volte forse in alcuni ruoli è un po' ristretta a causa di infortuni e tutto, ci siamo con Monduori e un terzino che ha fatto una buona partita nella parte di metà campo, che deve crescere, deve interpretare più il ruolo, dobbiamo essere bravo con quelli che si ha a disposizione di tirare il meglio, a volte non ci sono le condizioni, trovare le condizioni adattarci e poi fare il risultato. A volte ho detto che quando si inizia a soffrire si inizia a mettere più cuore dentro, più fame dentro, una cattiveria diversa, la voglia di non mollare ogni attimo, ecco questi sono gli aspetti fondamentali, soprattutto in questa partita qua di domenica. Le peserà non stare in panchina vicino alla propria squadra per 90 minuti? Mi dà più fastidio le interpretazioni arbitrali, io sono un tipo che non guardo e non giudico il loro operato, perché poi è difficile correggere gli errori della mia squadra, siccome è la prima esposizione che ho ricevuto, è uscito 35 centimetri dall'Ariatec, dove si vede tutti i miei colleghi che stanno quasi tutti fuori e dentro, e allora c'è qualcosa che non piace, qualcosa perché per me la vita è un modo offensivo, perché ho rispetto le regole, ho rispetto educazione verso l'arber, verso gli assistenti, verso un etico e tutto, però poi quando così mi sento mancato il rispetto e questo va male perché 35 centimetri fuori dall'area tecnica mi sembra esagerato per un'espulsione, però può avvenire in quel momento, però non con un turno di squalifica, turno di squalifica si fa ben altro, però poi si fa anche esperienza, la mia prima espulsione faccio anche esperienza di sequestro.